Ecco, San Rocco conclude questi festeggiamenti, devo dire quest'anno molto propizi proprio per l'anno giubilare che stiamo vivendo in corso. Da lui abbiamo potuto capire come appunto la santità fa parte dell'essere cristiani e anche noi come lui dobbiamo essere pellegrini in questo mondo. Io non mi stanco mai di dire che San Rocco è un laico battezzato e per cui da questa festa credo che tutti noi come laici battezzati dobbiamo prendere consapevolezza della nostra missione nel mondo e diventare sale e luce in questo momento storico in cui il mondo stesso ha bisogno di grande consolazione e di grande capacità di perdono. Penso che possiamo concludere questi festeggiamenti ritrovando la gioia dell'unità. C'è stata una grande collaborazione molto larga di tante persone e abbiamo vissuto anche all'insegna della solidarietà queste nostre feste. Parte appunto del ricavato delle feste sarà appunto utilizzato per i terremotati.